Ben trovati da Marco Caracciolo. Prurito, depressione e ansia, ma anche stress e stigma sociale affliggono i malati di dermatite atopica. Se ne è parlato nel corso della prima giornata nazionale dedicata a questa patologia. Generalmente conosciuta come patologia cutanea cronica che colpisce la pelle di neonati e bambini, in realtà la dermatite atopica affligge anche i più grandi. In Italia infatti sono circa 35.500 gli adulti che ne sono affetti, 8.000 dei quali in forma grave. Prurito persistente, escoriazioni, infezioni, gravi effetti sulla vita personale e lavorativa. La prima giornata nazionale della dermatite atopica voluta da Andea, l'associazione nazionale dermatite atopica, in collaborazione con Sanofi Genzyme, vuole far luce su questa patologia ancora poco nota. Andea, l'associazione dei pazienti con dermatite atopica, ha promosso questa giornata per aumentare il livello di consapevolezza a livello nazionale, istituzionale, rispetto a una malattia molto poco nota e che al momento non ha ancora un riconoscimento ufficiale. Quindi quello che chiediamo alle istituzioni è un riconoscimento formale che dia accesso a una serie di benefici che possono aiutare la vita di malati cronici che hanno una malattia invalidante che coinvolge molti aspetti della vita. Chiediamo l'attivazione di un osservatorio che permetta di avere maggiori dati sia sanitari ma anche economici, antropologici, cioè tutti quegli elementi che fanno comprendere meglio la malattia e che possano permettere la programmazione di interventi. E chiediamo l'accesso ai farmaci e agli altri presidi di cura che attualmente sono a carico del cittadino. Il sintomo sicuramente più importante della termodilatatopeica è il prurito, un prurito incessante, un prurito diffuso, un prurito che si vede alcune zone più colpite ma insomma un prurito diffuso, nella sua forma più grave questo prurito porta appunto attraverso il grattamento intanto all'instaurarsi di un circolo vizioso per il quale più grattamento porta più prurito, il cosiddetto ciclo Hitch Scratch. E poi può portare infezioni, queste infezioni possono essere la causa ad esempio anche di, non soltanto di infezioni appunto dell'acute e quindi di difficile anche risoluzione anche attraverso gli antibiotici, quindi anche la farmacoresistenza rispetto agli antibiotici, ma proprio delle infezioni che possono andare anche a finire anche a livello sistemico, poi portando a una infiammazione, a uno stato infiammatorio cronico e sistemico. La diagnosi in genere è una diagnosi clinica, basta l'esame obiettivo del paziente, riconoscere le lesioni, come si presentano e la loro distribuzione. Essendo una malattia molto comune da portare luogo a delle false diagnosi, cioè bisogna stare attenti perché qualche volta sembra dermatitotopic, in realtà è un'altra malattia, la biopsia dell'acute, alcuni esami del sangue, un'attenta valutazione dello specialista, in genere è sufficiente per fare la diagnosi. Abbiamo deciso di sviluppare, di concentrarse sulla dermatitotopica a causa del bisogno clinico enorme per questi pazienti che soffrono della patologia ormai da anni senza nessuna soluzione. Abbiamo sviluppato un farmaco che è in grado di agire in maniera molto specifica sul meccanismo d'azione della patologia, sui principi di fisiopatologia e che permette quindi di essere una soluzione per questi pazienti a lungo termine, grazie alla specificità infatti un farmaco è anche a pochissimi effetti secondari e quindi ha un rapporto beneficio-rischio molto favorevole.